eccoci qua anche questa giornata di pasqua oggi 4 4 2021 e 4 4 21 21 e sì sì no 4 4 21 21 no possibile sì sì 4 aprile 4 4 2021 a 2021 hanno credo 21 21 no 2021 ti volevo farlo scherzo antonio auguri buona pasqua e a tutti quelli che ci seguono so che ci seguono un gruppo di giovani da modena la quale saluto gli faccio gli auguri di buona pasqua e poi chissà se ci seguono anche quelli che ci seguono sul nuovo social piattaforma che hai installato da qualche settimana anche te clubhouse esatto quando ho visto antonio raffi si è iscritto ho detto grande ha detto adesso ho modo di sentirlo anche più spesso eh sì beh da poco mi sono iscritto è una nuova piattaforma che trovo molto molto interessante perché si può colloquiare con molte persone e anche esprimere diciamo il loro il pensiero è vedere il pensiero di uno o un altro in base all'argomento del che si tratta ecco esatto allora io e te dove ci siamo conosciuti perché la prima domanda è sempre quella mi sembra il carnevale di cento esatto e poi ci siamo rivisti al festival di del cinema di venezia siamo visti dappertutto proprio stavo guardando l'anno cos'erano due anni fa secondo me a benessia sì a cento mi sembra tre o quattro sto guardando dal video era il 2000 perché non si vede l'anno vabbè comunque si devono essere al massimo tre anni fa sì 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 che sei arrivato e c'era l'ovazione quando sei arrivato eh devo dire che mi hanno accolto e mi vogliono bene ringrazio tutti ci mancherebbe indipendentemente dalla carica politica che hai e dal colore politico mi hanno accolto tutti quanti esatto perché poi dopo te sei un personaggio alla fine sei di una simpatia estrema no come hai detto anche in televisione è il divertirsi no la la il modus operandi per per sorridere per stare in compagnia di tutti no e bisogna affrontare la vita molto leggeri no bisogna non farsi problemi anche quando hai detto sono andato a ballando con le stelle ma io mica so ballare hai detto tu se lo so ma è uno ci prova cerca di divertire di divertirsi e far divertire quelli che ci guardano perché naturalmente uno che guarda vuole divertirsi perché altrimenti si annoia si mette a dormire sulla poltrona perché vuole qualcosa di speciale e io cerco di darglielo ecco ma per per chi ti ha seguito poco io so la tua carriera è cominciata dalla germania giusto no dalla svizzera tedesca mi sbagliavo per quello dalla svizzera tedesca che ti si dal 1965 quanto sono sono arrivato lì il 7 ottobre del 1965 e poi tu non eri ancora nato no sì manco manco ero nei pensieri di nessuno sì è vero però ricordo dall'intervista che avevi fatto a cento che hai hai parlato il tedesco perché dovevi proprio imparare in base al mister che se no non si mangiava perché lì dovevi parlare eh anche perché se volevi colloquiare con le con le persone dovevi imparare la lingua del posto non è che gli potevo parlare il dialetto abruzzese non mi capivano ma anche se c'erano molti emiliani e romagna romagna emilia romagna erano pieni veneti friulani non ti sento più prima eh eh sì perché ho ricevuto nel frattempo una telefonata anonima io alle telefonate senza numero non rispondevo mai l'ho sempre detto è inutile che magari chiamano perché non rispondo no esatto come come ci eravamo sentiti ieri sera cioè la gente ci deve mettere la faccia no ecco bravo così l'hai detto tu ieri sera proprio e quelli che si vergognano di metterci la faccia che si fa i cazzi suoi e si sta ferma tranquillo esatto perché poi mi accennavi in base a quello ieri sera nel breve collegamento che abbiamo fatto per vedere se funzionava tutto no che tu quando sei andato in giro un po per il mondo quando rivestivi la carica di senatore no tu c'hai sempre adesso la faccia sulle cose che sempre raccontami un po dove sei stato un po di aneddoti perché tutti dico tutti parlano sempre solo di corea e questo lo diciamo alla fine no questo lo raccontiamo però secondo me non sei andato solo in corea no sono stato in paesi asiatici molto molte volte eh tipo taiwan tipo vietnam tipo cina tipo ehm pakistan indonesia ehm e poi aspetta quali altri paesi perché molti paesi non me lo ricordo nemmeno eh dopo in paesi in molte parti dell'africa di sabbeba ehm uganda e poi naturalmente gli stati uniti tante volte all'onu eh poi a filadelfia e canada montreal toronto alla fine alla fine si è andato più in giro per il mondo che ne restare a roma eh no ma è remissione è remissione che era eh c'è uno statuto eh c'è una cose che tu devi rispettare e se hai una che deve andare devi andare non è che poi ti puoi ti puoi rifiutare tu devi in quel momento devi rappresentare l'Italia e io stia facendo un viaggio di di piacere in realtà stai lavorando eh si sta lavorando e è molto difficile che hai eh hai forse qualche ora se vuoi visitare un palazzo vedere quel palazzo che cos'è cioè non è che abbiamo molte volte stavo lì all'onu a al palazzo di vetro il famoso palazzo di vetro l'albergo era proprio di fronte al millennium si chiama era lì attraversava la strada e eri lì e non avevi il tempo di di eh girare una volta ho detto che cavolo qui sempre mi so pagato due giorni l'ho pagato io eh l'albergo perché eh diciamo il mh quando vai in missione ci sono tre giorni ti pagano tre giorni di all'hotel però dopo dico scusa visto che il biglietto c'è eh che eh il ritorno tu lo puoi eh posticipare o eh cambiare l'orario come vuoi il giorno allora gli ho detto due giorni mi fermo così mi mi vedo New York se no che cavolo sono venuto qua tutte le volte non 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 vedo niente e così però pagando io eh non perché i conti lì lo mantengono eh precise non pensi che magari la gente pensa vado valla no dopo se tu rimani qualche giorno in più eh perché è finito il diciamo le riunioni gli appuntamenti che devi trattare eh che lì si parla di tutto il mondo quando l'unione interparlamentare e tutti i parlamentari del mondo naturalmente a me mi ha mi ha accoso perché sì di tedesco che lo eh lo sapevo mi ha facilitato molto di più ma di più che mi ha facilitato lo spagnolo perché in America parlano quasi tutti lo spagnolo l'inglese io lo so un po' no eh anche un po' di francese però eh quello che mi ha salvato del tutto è lo spagnolo perché dove andavo andavo parlavano tutti spagnoli e poi anche tutti i parlamentari che erano lì oltre all'inglese ma sapevano quasi tutti lo spagnolo io ci andavo a nozze come si dice con eh con lo spagnolo non mi serviva l'interprete ed infatti nelle traduzioni che c'era eh con le cuffie messo per eh per sentire quando parla il cinese o quando parla eh un altro del un'altra lingua che non si capisce niente arabo eccetera eccetera la traduzione in italiano non c'era per fortuna c'era quello spagnolo allora capivo tutto perché mi mettevo mi mettevo il canale quello spagnolo in traduzione e così ascoltavo tranquillamente così dopo potevo anch'io ribattere sull'argomento che si è trattato certo io dopo parlavo in italiano eh perché dopo io dicevo in italiano ma c'erano i traduttori che facevano in inglese con un po' di accento abruzzese quello non manca eh beh quello non manca mai se ci sei ci sei io non posso dire che non sono abruzzese io non mi vergogno di dire che sono abruzzese chi si vergogna chi si vergogna ci sono quelli che si vergognano eh Lucio che ne conosco ne conosco anche dei politici che non dicono mai che è abruzzese ma che cavolo te ne frega anche di quelli che si anche di quelli che si vergognano di dire che sono italiani tranne quando gioca la nazionale di calcio e bravo una rossa no bravo magari magari c'è eh poco campanilismo quando quando si sta eh all'estero capito invece si fanno notare solo quando vince la nazionale campione del mondo mettono tutte le bandiere ma anche qui in Italia perché qui in Italia eh io se vado eh se io che ho vissuto tanto all'estero all'estero eh e specialmente in America specialmente in America ma io lo guardo anche in Svizzera perché tutti i figli di italiane che stanno eh che stanno in Svizzera dove io lo conosco hanno tutta la bandiera italiana e non sono nati in Italia sono nati lì a Lucerna in Svizzera tedesca però si sentono orgogliosi di avere questa diciamo questa origine eh italiana sono i genitori che gli hanno trasmesso questa cosa gli hanno trasmessa perché quando uno esce all'estero si sente molto più legato all'Italia alla regione di appartenenza e in America se tu vai in giro io sono andato un po' in giro corre a New York a Brooklyn Brooklyn gira quei manate tu puoi se dove vede le villette vedi se sono qualcuno che è italiano c'è la bandiera italiana la bandiera americana e quello mi fa piacere perché eh si sentono orgogliosi di appartenere all'Italia certo anche perché alla fine vista nel mondo l'Italia è un bagaglino così grande così no che però ha una una un'enormità di di cose da da diffondere io io dico sempre perché parlo a livello alimentare no per dire perché molta roba che produciamo in Italia va all'estero cioè sì potremmo valorizzare un po' di più e non pensare solo al mercato di di esportare e importare il resto perché io direi di tenere un po' più i prodotti per noi no se si può ovviamente devi far vedere anche i prodotti all'estero perché così la gente poi viene a provarli in Italia e quindi qui si parla di turismo però la qualità noi perché dobbiamo sempre mandare via la roba migliore per prendere quella di qualità leggermente inferiore non l'ho mai capita eh perché purtroppo come si si dice la pubblicità è l'anima del commercio eh naturalmente ognuno cerca di mandare la eh la la migliore qualità per far sì che eh acquistano dopo questa eh che dopo quando ci si fa un contratto che si acquista non è che gli mandano tutta la la prima scelta ci metteranno anche la seconda scelta nella nella nel mucchio ma è una cosa è una cosa normale però eh dico è meno male eh molte volte io dire io ringrazio tutti gli italiani all'estero perché perché loro sono i primi importatori o consumatori di prodotti italiani del Made in Italy perché eh ci sono un'Italia fuori dall'Italia anche se eh nel nell'aere eh sono otto nove milioni iscritte all'aere ma ce ne sono più di cento milioni vicendenti italiane pensa che a San Paolo in Brasile eh ci sono oltre venti milioni che stanno aspettando il passaporto italiano che vogliono eh ricombrare la nazionalità e che sono eh è anche la stessa cosa anche in Argentina in Stati Uniti ma anche nella nostra Europa che è qui eh a un passo ci sono tanti italiani che a suo tempo hanno perso la nazionalità perché non si sono o si sono dimenticate per eh o qualcosa insomma eh poi dal 92 per fortuna eh c'è stata questa legge che anche in Italia che possono eh avere due nazionalità cioè una quella italiana e un altro quello del luogo dove magari lui ha sempre vissuto e e lavora e allora molti di questi si ne sono dimenticati e naturalmente dopo il 1992 è venuto fuori questa legge che eh possono riacquistare però ci sono delle pratiche molto lunghe molto lungo al minimo se gli va bene un annetto se no due tre anni ma addirittura ce ne sono lì come dicevo prima a San Paolo ci sono oltre venti milioni che aspettano perché c'è anche carenza di personale eh nei consolati nelle ambasciate perché ormai la tecnologia fa ridurre tutto la tecnologia eh prima era magari a un consolato c'era cinquanta oggi ce ne sarà dodici tredici spiego perché purtroppo la tecnologia fa abbassare anche il lavoro adesso col fatto anche dello smart working no bellissima cosa ma però è all'interno a livello per dire io all'inizio non riuscivo a capire che bisognava alzarsi dalla sedia per assurdo no e quindi mi sono rovinato la muscolatura delle gambe perché dicevo ma si vado eh mi alzo tra cinque minuti un'ora passa in un attimo no mi alzo tra dieci minuti non non mi alzavo e non riuscivo a capire tant'è che quest'estate poi l'ho pagata grossa perché avendo perso la muscolatura appena l'ho sforzata ho rotto tutto eh sì sì è facile dopo io che vado a giocare a tennis ho avuto vari strappi muscolari perché appunto sei sempre seduto sempre fermo allora una volta che tu vai vuoi correre vuoi scatti per andare a prendere la pallina e allora lì arriva lo strappo e ti fa vedere le stelle ma spiegami una cosa ehm che mi accennavi ieri sera del discorso birmania adesso no non si non adesso io non la sento neanche più per per televisione non c'è più niente quanto è ti faccio sta domanda a livello eh di comunicazione no giornalismo fotografia perché io a differenza per gli stati uniti sono mosso in stati uniti cose così ho visto pochi fotografi fotografati no ma o che fotografano la si vedono magari più video di persone del posto che documentano però è veramente pericoloso la è molto 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 pericoloso io qui molte volte mi fa arrabbiare perché eh molti eh anche eh i media criticano la Corea la Corea del Nord parlo per ehm le cose che succede che lì non succede mai niente eh lì è tutto tranquillo poi magari eh come questo della Birmania ogni giorno muoiono eh cittadini innocenti nessuno fa niente cioè eh nessuno dice ma la andiamo lì eh perché scusa eh visto che eh ci sono tante nazioni al mondo così potente non possono parlare andare lì eh c'è Han Sanzuki che ha ricevuto il premio Nobel della pace che ormai lo conoscono non è che è una sconosciuta ha vinto l'elezione con oltre l'ottanta per cento e scusa ma allora che cosa lì è è una dittatura perché se è arrivato eh militare è dittatura in Corea non c'è una dittatura militare sono dinestia di di persone non è una dittatura militare allora perché lì non intervengono e lì ma non solo lì ma tanti paesi africani dove ci sono tante dittature tante dittature che eh ammazzano tante persone al giorno eh cristiani li bruciano le chiese e c'è o nessuno dice niente sembra che tutto va bene e questo che mi si fa incavolare con verso diciamo perché si intromettono in una nazione che non fa niente non dice niente di nessuno non è che sta parlando male di tizio e caio non assolutamente non fanno niente loro vogliono solo stare lì e vogliono diciamo salvaguardare il suo paese la sua agenda la loro cultura perché ti devi intromettere a rovinare quella cultura che loro hanno se visto che quando tu ti infili in una nazione a voler cambiare eh quella cultura che loro hanno tipo eh la Libia vedi che cosa è successo e vedi che cosa dobbiamo subire ogni giorno sì 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 intanto saluto Steven che è un mio amico regista di Verona che è arrivato e chi vuole scrivere i commenti fare delle domande ad Antonio può andare sulla pagina Miraggio di Lux sotto i commenti poi appaiono e io li faccio vedere ad Antonio e Antonio risponde e l'Africa uno dice ah ma l'Africa l'Africa uno la pensa sempre come colonia di ogni nazione no in realtà l'Africa è dell'Africa cioè per dire eh va bene la Libia colonia italiana ma non è che gli italiani possono fare il cavolo che gli pare in Libia no come il Congo adesso quel casino che è successo là del ehm del console sappiamo il console e il console Luca è un grande amico mio pensa che con lui eh siamo stati insieme a Berna perché uno delle sue prime missione eh era responsabile del commercio in Svizzera e lui era presso l'ambasciata italiana Berna e sono stato varie volte con lui perché io dal 2006 ero parlamentare e allora andavo sempre in visita all'ambasciata Berna c'era eh una partita eh di calcio lui era eh juventino e e giocava Young Boys che è la squadra di Berna con la Juventus e dico eh Luca non ti preoccupare io conosco tutta la direttiva della della Juventus ho parlato lì mi sono fatto dare biglietti e così ho invitato tutta l'ambasciata a venire a vedere la partita e da lì c'è stata un'amicizia poi lui mi ha detto Antonio devi venire lì a Casablanca io adesso sono sono console generale a Casablanca eh io ho detto Luca non è che Casablanca è qua eh sono stato in Marocco sono stato a Casablanca ma eh non nel periodo guarda ahimè non nel periodo che che c'era lui dopo che è andato lui via perché dopo lui è dato lì ambasciatore lì in Congo eh però l'amicizia si è sempre stato guarda veramente sempre che mi hanno mi hanno ammazzato un fratello guarda io non arrivo a capire come può succedere una cosa del genere come l'ONU organizza queste cose come il devo dire che anche il nostro Ministero degli Estri permette a fare queste cose a mandare uno così in mezzo alla alla alle alle foreste in mezzo alle cose che lì è piena di attentati da da o da destra o da sinistra arrivano sbucano come i funghi pur di rubarti una caramella e lo permette a fare un viaggio senza una macchina blindata ma ragazzi in quei paesi lì io dico se ci ascolto qualcuno del Ministero degli Esteri che devono nei paesi africani eh l'ambasciatore ma anche il console deve avere le macchine eh adeguate a quelle blindate adeguate a quelle a quelle a quelle parte lì è chiaro che se sta qui a Pescara o o o nel Veneto o nel dove ne parte in Italia non ci serve la macchina blindata ma in quei paesi lì ahimè ci serve e lo dovete salvaguardare non non lo possono mandare al flaggello così no perché poi dopo io dico sempre i paesi africani vivono in base a quello che vedono no vedono che dalle altre parti si sta bene quindi io quando andai in Africa in Senegal perché la mia ex moglie è senegalese no e andavo nei taxi e mi dicevano certo che voi in Italia state bene allora gli ho detto io prendo tot soldi di stipendio no poi gli devi togliere il mutuo la macchina il gasolio i figli queste quello e l'altro faccio quanto mi rimane alla fine allora mi fa no non non alla fine non non ti rimane così tanto ho detto bene qui in Senegal che prenderai meno ma anche la vita ti costa molto meno no mantenere dieci persone una famiglia di dieci persone la mantieni tranquillamente se uno fa vedere come in Senegal in Congo dappertutto no che non è che fuori si stia molto meglio di eh dei loro posti no è vero che però non tutte le nazioni del mondo devono farsi i comodi loro nei nei loro paesi no non è che uno perché ha petrolio tutte le materie prime va là distrugge tutto perché sappiamo bene che in passato è successo che interi eh villaggi sono stati raggi al suolo perché perché doveva passare una condotta del un oleodotto no cose così non si sente dire niente se uno eh comunque si informa e tutto il resto non è piacevole da dire che perché siamo nel duemilaventuno potremmo vivere tutti in pace tutti no perché c'è la terra che ha tutto purtroppo esistono le persone egoiste eh quelli che vogliono avere oltre al suo vuole avere quelli degli altri ecco perché la Corea ritorniamo sempre alla Corea del Nord che non si sottomette perché io dico penso per me tu pensi per te e stai a e stai lì non è che tu vuoi venire a comandare a me e a dirmi a me cosa devo fare io no io sono grande eh grosso vaccinato eccetera eccetera non ancora sul coronavirus non sono ancora vaccinato eh per modo di dire come si sol dire grande grosso e vaccinato non è che mi puoi comandare a me io cerco di fare eh con la mia testa sì sì anche perché per parlare della Cina e poi mi dirai la tua opinione sul virus qua di questo ultimo anno così c'è la Cina io ho saputo che eh ha costruito dove era il capo delle Nazioni Unite dell'Etiopia mi sembra hanno costruito eh hanno costruito un tipo mega parlamento per le ragioni e regioni africani per gli stati africani no e lì hanno fatto tutto costruito tutto ad hoc ed ha costruito la Cina e lì c'è la Cina mezza Africa e della Cina esatto perché la Cina poi anche treni ferrovie addirittura città tipo Dubai o Las Vegas costruite nel nulla nei deserti africani nel deserto costruito vuoto questo qua anche lì uno va e vede perché cioè uno pensa che sì teoricamente i soldi ti posso ti ti danno la possibilità di fare tutto no però eh uno che è di un popolo tipo vengono in Italia e dicono facciamo quello che ci pare in Italia no in teoria no eh eh se c'è una legge deve rispettare quella legge che ci sta lì io quando sono andato in Svizzera a 65 non è ma no ma in Abruzzo faccio così ma qui sei là se no rimani in Abruzzo è una cosa è una cosa normale mi sono dovuto adeguare alle leggi ho dovuto imparare le cose che che erano lì in Svizzera e non potevo fare altrimenti se no altrimenti eh timbro rosso sul passaporto e per dieci anni non rimettevi i piedi in Svizzera questo secondo te come si potrebbero sistemare tutti sti casini che ci sono adesso anche per dire eh l'ho visto in un in un servizio non dico dove ma su su Rai 3 il discorso della della Sardegna con lo Yemen tutte ste cose qua cioè viviamo in Italia porca miseria ma guarda Lucio io volte volte mi meraviglio eh vedere delle cose cose o scene che tu vedi anche in televisione ma scusate io se vedo le iene o striscia la notizia che fa vedere che lì è pieno di droga e che sono tutti stranieri che stanno spacciando la droga ma scusate lo volete andare a prendere e a dire ragazzi qui o fate o vi vi fate come eh qui si usa altrimenti se volete spacciare volete andare ritornato al vostro paese quando uno dà un esempio due esempi tre esempi vedrai che come imparano tutti noi italiani quando era eh eravamo lì in Svizzera se ehm diciamo facci facevamo qualche cosa tipo rubare eh rubare o tipo andare a strubare delle donne eh o cose non c'era scampo ti raccompagnavano fino a chiasso e timbro e non tornavi lì se non passava dieci anni e che poi doveva vedere se ti accettavano a a ritornare invece qui eh è il fatto che il problema che alla polizia anche le mani legate poverini non possono fare niente altrimenti in prigione ci vanno i poliziotti al posto del ladro al posto del di quello che sta a spacciare cioè è una cosa incredibile o si cambia le leggi a a regola se no altrimenti qui saremmo invasi ma quando eri in senato cioè come come funziona perché purtroppo quando si è in molti uno non fa la differenza purtroppo caro Lucio quando tu presenti una proposta di legge eh non c'è l'accordo eh di tutti perché è quello eh adesso prendi per esempio adesso ritorna Enrico Letta un brava persona molto io lo conosco molto bene molto oh le prime sue cose che fa insomma eh qui ci abbiamo tanti italiani che sono a spasso tanti italiani che vanno cercando lavoro ma adesso tu i primi problemi tutti e i problemi di di dare il passaporto a a quelli che che magari sì che vivono qui se sono nati qui io sono anche favorevole ci mancherebbe perché se uno è nato qui va a scuola qui eh agli amici che magari addirittura forse si è dimenticato pure la lingua sua del del posto perché ha preso la cultura nostra mi sembra anche una cosa giusta ma non è il primo problema che tu puoi portare come partito politico come segretario politico eh insomma eh caro Enrico eh queste cose eh cioè non è che hai scoperto l'acqua calda vieni qui qui ci sono tanti altri problemi non non c'è solo il solito no anche perché cioè io non so le regole che abbiamo noi con l'Europa e tutto il resto perché sembra che essendo la via d'accesso per l'Europa l'Italia noi siamo la frontiera noi siamo la frontiera dell'Europa esatto quindi dobbiamo stare alle regole di tutti no? Eh ma dovrebbe mettere c'era una proposta di legge che avevamo fatto io Gasparri eh Maurizio eh avevamo che eh all'Italia specialmente nel Mediterraneo ci doveva mettere le dogane e controllare non può essere una eh aperta a tutto a tutti cioè ci deve essere perché noi siamo i confini i confini dell'Europa a tutti i confini d'Europa deve esserci una dogana di controllo ci deve essere anche una sanità di controllo perché se arriva nel porto le malattie come cavolo facciamo? Capito? E allora chi è che mi mi assicura che da Wuhan non hanno portato anche qui eh in Italia che c'era ehm c'era ehm c'era il coso la via della seta ma c'era anche il il diciamo la festa cinese il capodanno il capodanno cinese che sono andati a festeggiare lì sono ritornati chi lo sa dopo anche posso anche pensare o posso c'hai i dubbi ci sta a tutti gli lati ma come mai a Wuhan dopo è scoppiato questo è lì e poi eh due dottori mi sembra due dottori l'hanno ammazzato perché forse non doveva divulgare queste notizie eh diciamo questo questa uscita fuoriuscita di questa eh questo è successo si può pensare anche che magari è stato creato dai eh multinazionali farmaceutiche per vendere le cose sai il il pensiero dell'essere umano arriva a tutto può succedere come mai come mai questo perché questo e poi dice eh si diceva che al caldo non ha andava che col caldo l'ammazzava e invece andate pure ai paesi dove c'è è molto caldo tipo eh il Brasile eh insomma allora eh allora come fa io non credo che io questo non credo che sia eh successo così che Cristo il Signore proprio oggi in giorno di Pasqua ha fatto venire questa questa epidemia di di coronavirus qualcuno qualcuno non lo posso eh certificare perché non l'ho visto però io personalmente posso pensare tra virgolette che qualcuno l'ha l'avrà eh provocato ecco sì sì perché non non può avvenire da solo un casino così e durare tutto sto tempo specialmente e io devo dire che fare i complimenti a questi che ricercatori che meno di un anno hanno trovato il vaccino per vaccinare contro questa questo covid anche se qualche qualcosa pure molte volte non funziona a tutti eh perché ogni essere umano è differente non è che è detto che va bene a tutti e diciamo fare i complimenti a questi che bravi sperando che dentro quest'anno riusciamo a sistemare tutto a fare tutti quanti i vaccini eh dentro l'autunno in modo che l'anno prossimo possiamo respirare possiamo uscire fuori da queste prigioni che siamo a casa anche perché io a livello di foto inizio già essere stanco o ci voglio ad andare in giro ci voglio documentare un po' perché poi c'è questa cavolata se la chiamo cavolata no perché io da fotografo freelance diciamo no artista non mi affianco a nessuna agenzia di stampa no e allora io teoricamente non potrei uscire pur avendo la partita iva corretta posizionata corretta io non posso uscire a documentare perché perché possono farmi la multa però parliamone perché eh comunque adesso se anche te da giornalista prendere il libretto da giornalista è un'impresa titanica no perché ci vogliono un sacco di anni che presenti il vari ehm come si chiamano articoli quasi quotidianamente devi devi fare parecchie cose per poi ottenere il patentino da giornalista e diventare poi foto reporter però adesso ci si mette anche il fatto che uno ha la possibilità di uscire e ti ti non per piacere ma per lavoro no è così bello uno se seguiamo solo il distanziamento io che so che devo fare le foto so che devo stare distante da una persona no quindi o che mi dici che questo virus si trasmette tramite l'aria perché e così non possiamo respirare l'aria che c'è fuori diversamente mi devi motivare ancora meglio perché se io veramente non posso uscire devo stare distante io se vedo una persona mi sca mi faccio più in là mi scansio no è entrata nella psicologia della gente mentre una volta ci si veniva normale prendersi e quasi abbracciarsi anche tra sconosciuti in giro per le strade adesso quando vedi uno vedi tipo una mina vagante no sì sì ma dopo hai paura di incontrarlo a faccia a faccia lo schivi sempre perché ormai ci sta abituando a distanziare anche gli amici diciamo a non affrontarlo cioè non lo guardi nemmeno più agli occhi cioè a parte che con la col viso con la bocca sei ben scoperto e non è molte e molti di questi amici non lo riconosce nemmeno se non si levano la maschera dice guarda che sono io a tutto mascherato qua non magari con gli occhiali puri neri col con la mascherina nera si vede solo la fronte e un po gli occhi è molto difficile a riconoscere allora ci sta abituato io molte volte vedo anche qui sotto casa mia a pescara no ehm se certi certi magari cambia strada per non per non eh avere a faccia a faccia che magari non non ci strisci vicino io ho detto bene bene dico tranquillo no non c'è problema però e sta abituando la gente così a distanziarsi anche anche nel saluto anche nel saluto si si perché l'altro giorno sono andato per salutare una persona col goto come si fa così poi dopo alla fine c'hai tutti i disinfettanti del mondo io dico stringi la mano poi ti disinfetti le mani alla fine cosa cambia però no niente questa persona si è anche spostata quindi cioè non salutarti più io credo che questo veramente se continua così ci fa cambiare perché io mi ricordo dai quando andavo nei paesi asiatici io guardavo che loro erano tutte quelle mascherine già ma era per l'inquinamento specialmente eh in Cina perché a Pechino è molto inquinato eh Mongolia dove sono stato anche un l'ambatar in Mongolia eh anche lì con le mascherine eh posso dire che a chi ci può andare eh in Mongolia li consiglio di andare perché è veramente stupendo è è grandissimo anche se due milioni e sette di abitanti ma è quaranta cinquanta volte più grande dell'Italia solo hanno una popolazione bassissima solo eh un l'ambatar la capitale sempre che ha un milione e mezzo un milione e sette e l'altro milione è tutto sparsa per per tutta la la grandezza che è e ha cinquanta milioni di bestiame è molto ricco di bestiame naturalmente è molto ricco di Kashmir no? Sì eh eh e lì c'è stato un bell'incontro politico proprio con il presidente della 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 Mongolia veramente siamo stati trattati bene devo dire che a devo dire che a noi italiani né specialmente nei paesi asiatici ci vogliono bene solo nel nord Europa non ci adorano ve lo dico d'amico come dico io nel nord Europa non siamo tanto tanto ben visti eh te lo dico io il perché Antonio perché ci sono delle belle donne gli italiani e gli italiani vanno a caccia di quelle se lo fottono subito raccontami del del libro ho visto che hai fatto anche un libro che c'è sulla copertina che sei con Kim Kim Jong Un sono i miei quattordici viaggi in Corea io dico ho visto di tutto in Corea allora io lo conosco la Corea non solo il territorio ma conosco anche i politici perché non c'è un regime un regime militare eh c'è un regime di persone cioè non è come la Birmania che adesso è subentrata regime militare come in tanti paesi eh dittatura africana dove sono i militari si sono imbossessate dalla del comando e devo dire che è una nazione che ci adorano ci vogliono bene preferiscono vedono cercano di copiare tutto il Made in Italy mi pensa che c'è un auditorium della musica che l'ha fatto questo auditorium l'ha fatto un amico mio architetto coreano che ha studiato architettura a Roma e ha fatto il Colosseo un Colosseo in auditorium della musica veramente una cosa meravigliosa eh meravigliosa ecco io dico io non cioè non si può non potrei eh dire male di una nazione che ci adorano ci vogliono bene che ci copiano le cose nostre perché vogliono fare anche la pubblicità alla al nostro prodotto però però diciamo che c'è sempre il problema che magari arrivi tu ma perché io non posso avere questo perché io non posso avere quello eh beh ragazzi con la calma con la col savoir-faire come si dice eh in francese e sicuramente si può ottenere tutto ma con educazione con rispetto non vuoi andare lì no tu devi fare quello che dico io io ti porto la democrazia tu devi le cose queste cose può venire come è avvenuto nella vecchia eh cieco-slovacchia eh dove si sono divisi la slovacchia e cieca senza fare una guerra perché hanno adoperato il sistema intelligenza intelligenza del dialogo perché col dialogo si riesce a a conquistare tutti e a fare di di tutto come anche al come la 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 Spagna dopo la dittatura di Frango che su magari tutto si aspettava un'altra guerra civile dopo che Frango è morto invece è stata una una cosa ma la stessa pure in Romania dopo già Ucescu dopo che hanno avanzato e magari si presumeva che invece tutto calmo eh come le divisioni che ha fatto la Russia in tanti paesi che con Corbaciov si sono ehm diciamo alleggerite eh è venuta una una democrazia quasi eh perché c'è sempre il coso comunista no però è molto leggero molto eh però si è sconquistato con col parlemento se se non si parla non si risolve niente con la forza perché la forza ammazza tutti e chi paga paga le persone innocenti che non c'entrano niente esatto ne parlavo proprio prima di iniziare la diretta ero su Clebaus che adesso sto facendo mi sono messo lì a fare una stanza eh che si chiama posso aiutarti no e in una settimana sta entrando della gente e mi dice mi espone qualche problema io parlo gli parlare perché il parlare risolve come hai detto te no ma risolve tutti i problemi perché se ci mettiamo qua e urliamo ci insultiamo la nostra chiacchierata sarebbe durata sì e no due minuti no è chiaro adesso però alla fine adesso sono già tre quarti d'ora poi quando sei stanco me lo dici che un oretto lo facciamo ma tu su Clebaus mi segui io sì sì allora devo vedere quando fai qualche qualche camera così entro nella tua stanza ti segnalo che così dopo vedi vedi la notifica perché tornando al discorso della comunicazione no se uno resta così pacato e prova di trovare le risposte che non hanno gli altri che non è che le mie risposte sono la soluzione no però magari uno si è un altro si unisce a un altro e in due tre persone che ragionano senza offendere nessuno si trova una risposta no guarda normale che noi esseri umani non abbiamo la stessa testa non non la pensiamo tutta la stessa maniera però ci si può discutere da buon da buon intenditore poche parole perché io se magari tu mi hai detto una cosa e sono incavolato naturalmente senza nemmeno riflettere ti dico lui no 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 sono contrario ma solo perché sto incazzato per un altro motivo e non ho riflettuto a quello a quella proposta che magari è una proposta intelligente ma non ho io solo perché stavo incavolato ho detto quello ho dato la risposta negativa io quando facevo il presidente degli abruzzesi in svizzera ma ma anche da ad alcuni argomenti io dico io la vedo così così però non mi deve dare la risposta adesso me lo dai domani rifletti 24 ore perché magari riflettendo poi puoi dire ma lo sai perché la tua testa ti fa ti fa tanti paragoni dice ma questo se era così potrebbe essere così potrebbe essere così magari porti mi porto una soluzione migliore ma capito questo che magari le dice antonio quello che tu mi hai detto va bene ma se ci mettiamo pure quest'altro va ancora meglio dico cavolo non ci ho pensato nemmeno io è giusto capito allora io faccio sempre riflettere la gente dico non mi date la risposta subito non c'è problema ma questo lo adoperavo questo sistema anche quando stavo alla camera e al senato però lì non ti fanno passare perché se sei se non sei al governo tutte le tue proposte lo puoi buttare cestinare che non ti passa niente come e tante proposte di legge che io ho fatto che poi alla fine sono tornati utili vedi e il il la scuola adesso via ma via computer via tutto al 2009 c'è una proposta di legge che l'ho fatto io di insegnare la scuola perché questo perché ci sono italiani all'estero io l'ho fatto a proposito dell'italiano all'estero ma anche per gli italiani che vivono in italia che magari gli è successo qualche cosa non può andare a scuola però tramite computer può seguire i corsi esatto tipo io quando nel 92 91 92 94 non mi ricordo comunque dal no 90 93 mi sono operato no ero in prima media alle varie articolazioni io lì dovevo ricevere via via lettera perché all'epoca manco c'era internet tutte le cose che erano state fatte no non avrei perso neanche un anno che mi sono ritirato a ragioneria perché ho perso sei mesi no se avessi avuto questa possibilità e io la metto come possibilità in caso di evento eccezionale non come prassi normale normale se tu non vuoi uscire perché sei zoppo non vuoi cosa è successo un incidente non puoi andare a scuola però segui corsi via via internet è questa quella proposta di legge che adesso funziona è così però a me non me la fanno fatto passare no magari dice questa è la legge razzi ma niente da fare la stessa cosa quello del del fumo in macchina che io avevo fatto la proposta al 2006 già mi sembra fine anno 2006 divieto fumo in macchina in in presenza di bambini perché io vedevo ma cavolo ci sono moglie e marito che sono lì alla guida due bambini di due tre anni di entro che stanno a dormire e stanno chiusi perché sono chiusi nella macchina a respirare quel fumo il fumo passivo fa più male del fumo che uno che fuma e niente non me l'hanno assolutamente fatto passare per fortuna che è arrivata la lorenzin che a suo tempo ha avuto dei figli e ha capito lei come ministra della sanità ha fatto quattro e quattro otto subito passare quella legge e adesso è una legge che divieto di fumare in macchina in confronto dei bambini ma io sono contento cioè pur che lei non mi ha detto io ho ripreso la proposta di legge del senatore razzi che aveva già consegnato da molto tempo lei l'ha l'ha rimodulato la e se l'è fatto sua capito c'è la legge esatto però l'importante è l'obiettivo no ma è importante che è chiaro ma tante altre proposte di legge perché non fatte 30 40 proposte di legge ma devo dire che molti di quelle hanno strapolato dal mio anche molte cose capito e questo sì io farei come in tanti paesi del mondo tanti no ce ne sono pochi però c'è il ministero della felicità ed è bellissimo secondo me un qualcosa per sia per l'inclusione sociale sia per gli artisti perché è cioè parliamo della fotografia parliamo della pittura scultura tutto quello che crea felicità e benessere no ma sai come si sta bene quando la gente è felice che trasmette altra felicità chiaro 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 solo che non lo so l'italia è uno stato dove l'idea devi tenere le persone più al guinzaglio no purtroppo purtroppo è così vedo che vedo che che in italia è molto difficile queste queste cose qui si vede cioè io che ho vissuto 41 anni in svizzera vedo subito la differenza noto subito la differenza capito uno che va fuori all'estero e che vive un po di anni all'estero apre subito gli occhi vede molte cose di differenza di quello che manca l'italia capito perché io dico anche uno ha fatto una volta la proposta tutti quelli che fanno i sindaci delle grandi città devono prima di essere eletto sindaco deve andare nelle grandi metropole al mondo e imbarare e vedere come vivono quelle città come sono fatte quelle città anche il piano regolatore imparare da quelle grandi città dopodiché ti canti da sindaco e cerchi di migliorare la copiare in meglio le cose che tu hai visto fuori come facevano i giapponesi ai suoi anni prima che venivano e fotografava tutte le macchine tutte le cose che poi hanno copiato tutte le i modelli e tutte le cose ai modelli nostri ecco è quello che noi non riusciamo a fare anche molti sindaci dicono dicono in campagna elettorale quando vanno lì non fanno un cavolo di niente è sempre così la pubblicità prima e la il vuoto dopo e io non posso ecco io forse sono molto differente da queste cose io purtroppo molte volte non accetto tante cose perché mi conoscono che nel senso che se io sono responsabile di una cosa deve funzionare come di come di io comanda e come perché dopo ci non ci dormo la notte per pensare di come migliorare capito sì 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 però ci saluta Maria dalla provincia di Messina eh ciao Maria buonasera e buona Pasqua no e qua bisognerebbe c'è perché quelli a Roma teoricamente no io penso che tu quando eri a Roma ascoltavi il le parole del del po chiamiamolo popolo delle persone no ma è normale è normale perché invece ultimamente non solo ultimamente si pensa solo ai propri interessi eh questo ti ricordi quando me ne hanno detto di tutti coloro quando ho detto qui ognuno pensa per i cazzi loro perché ho vedevo queste cose io non ho resistito a dire queste cose io almeno la mia politica è stare vicino al cittadino perché se tu vuoi migliorare e vuoi veramente amare e ami le persone eh devi stare vicino al cittadino e sentire il problema che ha il cittadino perché se non senti il problema se tu non ascolti il problema come fai a migliorare che cosa proponi a in Parlamento se tu eh non vedi i problemi i problemi chi lo può chi lo vede lo vede la gente sa che magari non hanno lavoro magari eh gli manca qualcosa e tu lo vai a proporre guarda che qui ci manca questo e ci manca questo e dico un esempio eh qui ci manca la luce allora lì dobbiamo portarci la luce dico un esempio eh è la stessa cosa su tutti gli altri argomenti ma se tu non l'ascolta e non ci vai in mezzo fai solo il eh come quando la pulce sotto il naso eh non vedi niente è chiaro eh come dire mi ricordo eh che tanti anni fa ma ancora oggi c'è qualcuno che per avere un appuntamento con il parlamentare ci vuole mese e mesi per parlare invece con me io sono tutti i giorni in mezzo alla gente può parlare quando vuole perché io non ho un problema viaggio in pullman viaggio in seconda classe perché voglio stare vicino alla alla gente comune come io dico sempre no a me chiedono ma perché tu dai del tu a tutti no perché per me il rispetto è un'altra cosa no nel senso bravo 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 se noi ci vedessimo che siamo tutti in posizione orizzontale no cioè che siamo esseri umani e non che io sono un impiegato che sono un fotografo e che tu sei un ex senatore un eh il lavoro che fai no ma che siamo persone perché siamo tutte persone alla fine no e quindi quello l'abito che vestiamo è una cosa in più perché non dovrebbe trasformare le persone ma che dovrebbe al massimo valorizzarle ma non stravolgerle è bravo è bravo però è fatica ti faccio avviciniamo verso la fine ti faccio una domanda pasquale perché ho visto che hai postato a parte l'uovo di pasqua della juve cosa ti ha fatto da me l'hanno regalato me l'hanno regalato sapendo che io sono un ammiratore non dico tifoso perché il tifoso è brutto perché ognuno di noi abbiamo dentro che abbiamo un'ammirazione di una squadra io non me la prendo se uno è interista milanista romanista naziale che sia non non importa perché è normale che ognuno eh come come si dice ognuno tira l'acqua al suo mulino ognuno di fa il tifo per chi gli pare piace ma io non cioè fare lo sportivo non il tifoso perché se fai tra l'altro il tifo se uno dice il tifo è una malattia è una malattia che è pericoloso pure lo dice la parola stesso come dici tu tifo e ti rende eh ti rende diciamo quella malattia eh non che uno gli viene quella malattia per l'amor di dio però è già in senso negativo e negativo quando tu dici sei un tifoso no io sono un ammiratore di della juventus perché 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 io quando quando dico ti dico a te di che anno sei del novanta dico un esempio ah allora in quel novanta in quegli anni lì andava forte il mila allora sei tifoso milanista perché c'era van basten c'era allenatore sacchi c'era capito allora in base all'età allora in base all'età io sono del 48 e nel al 54 55 56 quando ho incominciato a capire di calcio allora sei ragazzi cinque sei anni comincia a sentire alla radio che c'era nicolò carosio allora che trasmetteva le partite eh che non c'è più ahimè eh e c'era charles Sivori Boniperti si parlava della Juventus Charles Sivori Boniperti e lì diventi diventi come tante al tempo degli anni ottanta eh ottanta anche fino ottanta e Maradona il Napoli ci sono molti tifosi del Napoli perché c'era Maradona vi spiego eh come l'Inter di Mazzola o di Coso che anche adesso l'Inter le sta andando bene che sta però io non è che me la prendo con quelli che ognuno fa quelle che gli pare cioè non è che eh io ti devo obbligare a a a a essere simpatizzante di una squadra che ognuno fa quelle che vuole ma sapendo che avevo questa ammirazione devo dire che la mia collaboratrice eh Marica eh che mi sembra che già aveva preso eh conso con te per fare la diretta eh e che e lei sapendo che io a ammiro la Juve ma conosco tutte della Juve dal presidente alla ai calciatori eh ma non per questo io sono amico di Beppe Marotta che eh direttore sportivo dell'Inter capito eh che tu l'amicizia l'amicizia non è che esatto io ti conosco il discorso di prima di trattare le persone come persone non in base all'abito che hanno addosso beh bravo bravo e allora queste mi hanno regalato questo uovo a mia moglie gli ha dato un altro uovo neutrale e allora dice per la cosa pasquale viste che con due uova e qualcuno ha detto ah ma proprio della Juve senti dice ognuno fa quelle che gli pare io ti ho obbligato a essere da te tifoso della Juve dici tu fai con chi ti pare capito ma invece cosa ti ha preparato tua moglie perché dall'intervista che avevamo fatto a cento mi hai detto quanto tu sei innamorato di tua moglie ma guarda io sono fatto gli arrostitini no 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 quello no no beh oggi pasca eh pasca c'è l'agnello c'è la pasta capito poi c'è la colomba è normale la tradizione la tradizione pasquale che tutti noi abbiamo dentro di noi che più o meno è quello la che che si mangia poi noi ci conosciamo da da 52 53 anni anche 47 che siamo sposato ma oggi ci vede arrivata la notizia oggi 326 morti in italia stanno calando speriamo che speriamo che vedi che a londra è arrivato anche a zero morti e perché hanno fatto i vaccini a ripetizione speriamo che fanno questi vaccini e diceva è così per fare gli auguri di buona pasqua sì da parte mia da parte mia moglie abbiamo fatto due uovi di pasqua ma però io c'avevo quelle della juve ma è uguale alla fine siamo sempre lì scusa ho preso conto al computer e alla fine siamo sempre lì è un è un involucro no perché dentro l'uovo è sempre uovo chiaro chiaro la cioccolata sembra cioccolato non è che quella è la migliore cioccolata perché juventus allora ci avviciniamo verso la fine come a tutti per tutte le chiacchierate verso la fine do due minuti di tempo per dire quello che uno vuole argomento libero e so che metto in difficoltà le persone io rispondo a tutto non è un problema io avendo fatto avendo fatto tutti i mestieri del lavoro lucio e posso forse sono l'unico che quando vado anche in trasmissione televisiva posso posso riuscire a parlare di tutto e di tutto perché non parlo solo politica parlo sport parlo anche di donne perché ne a suo tempo quando ero giovane e andavo con tante ragazze allora parla meno due minuti di quello che vuoi se vuoi e antonio noi in quei tempi lì caro e ma era normale perché tu da straniero non è che andavi lì in discoteca nei locali dove si ballava andavi lì e conquistavi le donne così o andavi e perché noi avevamo l'abitudine noi italiani a chiamare andare a ballare no e quelli non venivano con nessuno perché ci vedeva che eravamo stranieri non sapevamo il tedesco io andavo con con un touch book in tasca no un po piccolo vocabolario in tasca che quando non capivo prendevo è così e dopo dalla parola due parole facevo il discorso capito sia allungavo sia accorciato e naturalmente non venivano a ballare con noi allora quando ballava quando la musica incominciava allora era il tempo del rock and roll e del twist era quegli anni lì famoso no di questi balli naturalmente io andavo e mi ballavo da solo ed allora quando mi hanno visto che sapevo ballare il rock and roll e il twist che poi avevo fatto pure una gara di ballo e l'ho vinto io a quella gara di ballo lì al Rex lì a Lucerna e naturalmente le ragazze poi non mi è servito più di andare a chiamare mi venivano loro a prendere a ballare e le dicavano pure le donne perché no ma non mi preoccupate ballo con tutti che non c'è problema dice adesso tu poi vengo con te non c'è problema e poi magari alla fine alla fine qualcuno me lo portavo via un prestito eh poi dopo la lasciata ma sì ma sì è normale allora avevo 17 anni 18 19 20 che volevi allora non è che pensavi devo fare una famiglia un matrimonio ho cominciato a fare quello a pensare quello quando avevo 23 24 anni poi infatti mi sono sposato a 26 anni sì 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 va bene ultima domanda è progetti da qui a quest'estate ma guarda adesso sto cercando di fare un'altra canzone sai che ho fatto una canzone fammi cantà è un'altra bellissima canzone che ho ricevuto la il disco platino con il pagante di milano too much che ho collaborato con loro a questa canzone e ho fatto oltre 9 milioni di visualizzazione su youtube e adesso c'è un'altra canzone che sto diciamo finendo facendo eh si chiama genio genio e parla anche un po' della mia vita dei cosi anche parlo della Svizzera deve questa canzone un po' un misto e vediamo se non riesco a finire eh dentro prima dell'estate in modo così lo lanciamo ma lo faccio per passatempo, non è che mi devo fare i soldi, la stessa cosa come i libri, te lo dico da no perché io infatti tutto il ricavato va per una chiesa che stanno ristrutturando, non è che viene a me, io proprio per fortuna non mi fa bisogno niente, regalo tutto, sapito? Va bene Antonio, io ti ringrazio Grazie a te, saluto naturalmente saluto tutti quelli che ci ascolta, che ci hanno ascoltato e che magari forse hanno ascoltato tutti i nostri discorsi quasi più di un'ora e che domani questa chiacchierata sarà sul mio canale Youtube Miraggio di Lux e quindi poi ti passerò il link che potrai diffondere a chi vuoi Va bene caro, va bene augurando ancora la buona Pasqua e naturalmente la buona Pasquetta domani Esatto, grazie ancora Antonio saluta a Carlo Grazie altrettanto a te Ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti